Ciao Marco, sono veramente molto contento della tua nuova iniziativa, sei benissimo che ci attomuna la grande passione per il bello, la grande passione per la notizia, ma soprattutto la grande passione per l'automobile. Non ti nascondo che sono curioso e veramente in attesa di vedere la tua nuova veste nell'ambito della comunicazione e del web. Che dire, i miei più sentiti auguri per questa grande avventura, sono curiosissimo di andare a spucciare e curiosare per vedere quali notizie ci regalerai, ma sono certo che saranno estremamente di impatto e di qualità. Quindi molto presto utilizzerò il tuo canale, la tua esperienza per raccontare e annunciare le nostre grandi novità. Mole Automobiles, come ben sai, sta sviluppando una serie di modelli e alcuni in co-branding con alcune case economistiche famose italiane, ma soprattutto Mole Luce, presto la vedremo in strada, motorizzata con motore elettrico. E che cosa dire, Mole Automobiles, noi siamo a casa di Mole Automobiles, continua in quello che è il suo percorso di crescita e di grandi novità. E queste novità, caro Marco, sarai tu a raccontarle il primo possibile.